ciao amici ben ritrovati oggi ho qui tra le mani il modellino della tira 011 con cui slim borg di corsi in sud africa nel 1982 è un modellino spark di ottima fattura purtroppo tranne per il casco di slim che è completamente sbagliato se siete bravi potete staccarle dal pilotino e riverniciarlo e provare ad ottenere un risultato migliore di quello che ci ha purtroppo regalato spark regalato per così dire più che della vettura oggi voglio parlare proprio di slim borg di perché è una storia che merita di essere raccontata e rispolverata slim è due cose un pilota di motorsport e soprattutto il batterista degli abba grazie al proprio ruolo di batterista degli abba negli anni riesce a simulare i soldi che gli servono per poter da sfogare la sua grande passione del correre in pista e comincia nel campionato di formula 3 addirittura arrivando di terzo dietro a prost ed al boreto una scuola quella svedese che in quegli anni è molto formativa è molto è molto importante se pensiamo ai vari roni petterson nilson che arrivarono in formula 1 quindi il lui ai successi che arrivato è prestato per la sua bravura e non perché aveva la valigia piena di soldi valigia che comunque possiamo dire essergli servita per debutare in formula 1 a 34 anni con la a ts una scuderia quando slim debutta ormai allo sbando e con gravissime difficoltà tecniche e finanziarie ma diciamo così e slim ha un'intuizione senza dire nulla al smith che era il capo della scuderia che era un ex mclaren ed ex brama in quel momento senza lavoro e una figura tecnica di assoluto rilievo decide senza dire nulla al capo della scuderia ats di lavorare sulla monoposto vanno a levare pensate ben 32 kg in eccesso da quello che era la wing car gialla della ats e collabora slim impara da lavorando con alister a come guidare al meglio la vettura wing car e a silverstone arriva alla fornitura di pneumatici avun parte ventunesimo e riesce nell'impresa di conquistare un punto mondiale attenzione stiamo parlando di quanto i punti ancora venivano dati ai primi sei e addirittura il primo pilota chi vinceva guadagnava nove punti neanche poi dieci come gli anni successivi alla guida di quella ts che aveva creato tantissimi problemi anche a un futuro campione del mondo come che che riuscì a prendere quel punticino fu quasi come vincere il mondiale questo dimostra la bravura di borgo tra l'altro in quella gara un meccanico si dimenticò il cacciavite e nel nell'abitacolo che a un certo punto si incastrò sotto la pedaliera di slim e lo costrinse ad cambiare in gara tutte le volte senza utilizzare la la frizione era un pilota che sapeva andare molto molto forte purtroppo nell'82 l'avventura con la tirel fu scelto da ken tirel attenzione quindi tirel nonostante guardava sì la valigia dei piloti ma dovevano anche avere delle capacità per guidare per la sua scuderia perché non si accontentava solo di fare presenza puntava comunque ad ottenere dei punti mondiali che all'epoca volevano dire soldi e l'avventura con la tirel si interrompe dopo solo tre gran premi qui abbiamo appunto la la vettura del gran premio del del sud africa ma slim continua a correre tanto per diventare campione europeo di camion per due volte e campione del mondo nel 1995 oltre a essere campione di turismo nordico nel 1994 una figura appunto quindi che va ricordata non solo per essere stato il batterista degli abba ma per essere stato un onesto pilota che magari se avesse iniziato prima chissà la sua carriera potrebbe essere poteva cambiare qui la vediamo a bordo della sua bianca tirel alla ricerca di sponsor io se posso dire un qualcosa appunto la spark speriamo che vada a migliorare nel tempo con i caschi perché ultimamente ne abbiamo visti di pochi di fatti veramente veramente bene nonostante siano piccoli insomma capiamo tutto però anche un certo costo questo tipo di modellino per il resto ricordatevi slim borgoode potete andare a rivedere il gran premio di silverstone del 81 che è una grandissima gara qui con la tira in sudafrica io vi saluto e alla prossima